Parte ufficialmente la macchina organizzativa per ospitare la tappa del Giro d'Italia con arrivo a Brindisi. Annunciate nel primo incontro del comitato predisposto dal comune Brindisino alcune iniziative collaterali, previste in attesa dell'appuntamento di maggio, con alcuni monumenti che già dalla fine di gennaio verranno illuminati di rosa, oltre ad incontri con le scuole e dalla presenza di illustri ospiti a partire dalla prossima settimana con l'ex ciclista Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo. Abbiamo scelto di far partecipare sia le associazioni ciclistiche che la Camera di Commercio, che il CONI, quindi un comitato aperto, compreso tutte le personalità, i dirigenti del comune che poi devono fare il lavoro relativo alla tappa. In ogni caso fino alla giornata della Castrovilla di Brindisi ci sarà un percorso incredibile, fatto di eventi e fatto di sollecitazioni anche culturali nella città per far crescere l'attesa, ma anche per far comprendere alla città qual è il grosso vantaggio di un arrivo di tappa del Giro d'Italia. Ci sono da organizzare una serie di eventi che devono essere paralleli all'iniziativa perché debbono fruttare in termini di immagine e di conoscibilità della città a livello internazionale. Tenete conto che il Giro d'Italia viene trasmesso ben oltre i confini italiani, in 200 paesi. Quindi è un momento particolarmente, un'occasione particolarmente ghiotta da non lasciarsi sfuggire.